L'Abruzzo dal lunedì 24 gennaio entrerà in zona arancione per effetto dell'ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza. La decisione arriva a seguito dell'aumento dei ricoveri emersi dal report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero. Con l'ordinanza non cambia molto in termini di restrizioni per chi è vaccinato. Con le recenti misure introdotte dal governo infatti sono state eliminate gran parte delle differenze tra le restrizioni della zona gialla e quelle della zona arancione. Le limitazioni riguarderanno chi non è in possesso del green pass rafforzato, la certificazione ottenuta con la vaccinazione o la guarigione da covid. La principale novità è rappresentata dagli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione o verso altre regioni vietati a chi non ha la certificazione fatta eccezione per motivi di lavoro, per necessità, salute o per servizi che non siano disponibili nel proprio comune. In questi casi sarà necessaria l'autocertificazione. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con un massimo di 5.000 abitanti verso altri comuni entro i 30 chilometri ma non verso il capoluogo di provincia. È vietato poi a chi non ha il super green pass l'accesso ai negozi nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi tranne alimentari edicole, librerie, farmacie e tabacchi. No anche a corsi di formazione in presenza e alla pratica sportiva di contatto anche all'aperto senza la certificazione verde rafforzata. Per quanto riguarda bar e ristoranti le consumazioni al banco e al tavolo all'aperto e al chiuso sono permesse solo a chi è in possesso del green pass rafforzato. Anche l'accesso all'impianto di risalita nei comprensori sciistici è vietato a chi non ha il green pass e a chi il certificato verde ma in versione base. Queste nuove regole entrano in vigore da lunedì e si aggiungono a quelle già in essere. L'accesso agli esercizi che offrono servizio alla persona è consentito solo con green pass base e con green pass rafforzato. L'obbligo vaccinale per gli aver 50 per i lavoratori della scuola, della sanità e della sicurezza insieme all'obbligo di mascherina all'aperto e di FFP2 in alcune situazioni come sui mezzi di trasporto pubblici sia locali che a lunghe tratte. Poi c'è l'obbligo di esibire il green pass base sul lavoro. Resta lunghissima la lista dei luoghi e delle attività in cui è necessario avere il super green pass per accedere a cinema, teatri, musei, mostre, palestre, piscine e terme ma anche sale e giochi, concerti, alberghi e partecipare alle feste oltre che dal parrucchiere, dal barbiere o dall'estetista.